Lo sai che Farfisa sta integrando la tecnologia bluetooth in molti dei suoi prodotti? Uno dei più interessanti è il nuovo programmatore PGR 2991BT, un dispositivo molto piccolo e economico, come questo. Si collega a un punto qualunque dell'impianto, poi basta aprire l'applicazione che abbiamo sviluppato per configurare tutti i parametri, comodamente e dal tuo smartphone. L'interfaccia grafica è davvero intuitiva e ti guida con indicazioni contestuali nella programmazione delle funzioni. Dimentica le programmazioni con i dp switch, le infinite combinazioni di tasti o le problematiche legate alla reperibilità di tutti i condomini per effettuare una semplice modifica al sistema. Il cliente ha necessità di attivare un cancello o la luce delle scale dal proprio videocitofono? Nessun problema, il sistema Duo ha già tutte le potenzialità per una tale richiesta e da oggi puoi attivare la nuova funzione dell'impianto con questa soluzione, non solo senza modificare il cablaggio, ma anche senza accedere a tutti gli dispositivi all'interno degli appartamenti. La potenzialità sta anche nella facilità dell'aggiornamento. Il database non si trova infatti nel dispositivo, ma nell'app stessa, quindi ogni volta che rilasceremo un nuovo prodotto, il dispositivo sarà automaticamente in grado di programmarlo, quindi un piccolo investimento che si rivaluta continuamente nel tempo.